Ciao, Manu. Credevi che il mio eccezionale senso fattivo non avrebbe colto il vacuosentore di Neroli e bergamotto della tua lozione preferita? Stiamo qui tutto il giorno? Ti arrendi? Mamma e papà ti hanno mandato per spiarmi. Non ho paura di spezzare qualche dito. Loro mi sottovalutano, pensavano che non l'avrei mai scoperto. Oh Manu, mia povera ingenua appendice. I miei genitori non sono preoccupati per me, sono buratinai che vogliono tirare i miei figli da lontano. Per come la vedo io hai due opzioni. Opzione 1 Ti rinchiudo qui per il resto del semestre e impazzirai lentamente cercando di uscire, rovinandoti le unghie e la tua pelle liscia. E sappiamo quanto sei vanitoso. Opzione 2 Giuri eterna fedeltà a me. La prima missione è fuggire da questo purgatorio per adolescenti. Certo che ho un piano. E comincia adesso. La prima missione è fuggire da questo purgatorio per i miei figli 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 da questo purg